Per preparare una torta after 8 vi occorre 300 g di farina, 200 g di zucchero, 100 ml di olio di semi, 3 uova, una dose, mezzo bicchiere di sciroppo di menta, cacao amaro in polvere, 2 cucchiai e un po' di latte. A questo punto lavorate tutti gli ingredienti in un robot, dividete l'impasto in tre ciotole, in una aggiungete la menta e un po' di farina, quella che servirà per dare la stessa consistenza delle altre creme, una la lasciate bianca e nell'ultima ciotola unite il cacao in polvere setacciato e un po' di latte giusto per avere la stessa consistenza delle altre creme. In una tortiera imburrata versate un po' di impasto bianco, sopra un po' di quello verde e poi quello al cioccolato, continuate così fino alla fine delle creme. Cuocete la torta a 180-200 gradi per 40 minuti.